Seduta di consiglio interrotta a Pescara, oggi si discuteva della rimodulazione del piano di riequilibrio, argomento fondamentale per l'amministrazione comunale, ma come era successo all'ultimo consiglio, la seduta è stata interrotta per motivi di decoro, a monte sempre la maglietta con la richiesta delle dimissioni del sindaco Alessandrini. L'opposizione continua a indossare magliette che al di là del messaggio dato, credo orpai lo sappiano tutti ciò che vogliono dire, il decoro di quest'aula viene oltraggiato ancora una volta, non si comprende perché non si vuole tornare ad essere responsabili e persone di buonsenso e smetterla con una farsa, perché ormai si tratta di una farsa che tende soltanto a gettare la città di Pescara ancora più nel baratro in cui l'abbiamo trovata. Il centrodestra rimane compatto sulle sue posizioni, annunciando che la norma dello statuto menziona il decoro in aula come comportamento da attuare nel corso della discussione e non sull'abbigliamento da tenere in aula, contando che, secondo loro, non risulterebbe offensivo quanto scritto a carattere i cubitali e che anche oggi si è persa l'occasione di discutere questioni di fondamentale importanza. Ma in realtà non sono state ancora votate due variazioni e poi il riepilogo definitivo del piano di riequilibrio che deve essere rimodulato e mandato di nuovo al Ministero e alla Corte dei Conti. Penso che dopo questo Consiglio, nel prossimo Consiglio, questo potrà essere fatto. La seduta si è risolta con la richiesta di intervento del prefetto di Pescara. Lui spetterà risolvere la diatriba sul decoro. Quale interpretazione della norma prevista dallo statuto? Il Movimento 5 Stelle prende distanza da entrambe le parti e intanto è stata revocata anche la seduta di Consiglio prevista per domani pomeriggio, che aveva come tema quello della balneabilità. Le estra e le sinistra in questa prova muscolare hanno bloccato nuovamente un Consiglio Comunale che deve invece interrogarsi e lavorare su questioni importantissime. La questione balneabilità per la quale abbiamo chiesto le dimissioni del Sindaco e sul predissesto, il piano di riequilibrio finanziario senza il quale il Comune di Pescara andrà in dissesto. E addirittura adesso si arriverà a chiedere al prefetto, papà prefetto, che dovrà decidere tra due litiganti, fratelli litiganti, e chi perde è naturalmente la città di Pescara.